Stagione turistica ad Ischiaponte, come è andata Gian Giuseppe Lanfreschi? Una stagione molto strana, non solo per Ischiaponte ma in generale. Molto strana, sembrerà assurdo, però dalla quale si possono leggere dei segnali molto positivi. Come dicono i tecnici, lo scontrino medio si è abbassato, ma i numeri ci sono stati. E noi abbiamo visto proprio a Ischiaponte in queste nuove realtà di B&B o di appartamenti fittati a giorni, non più a settimana, a fine settimana, a due o tre giorni alla volta, abbiamo visto un incremento soprattutto di giovani, giovani interessati alla tranquillità che possa dare un'isola che per certi versi noi a Ischiaponte nei periodi estivi cerchiamo di dare maggiormente rispetto agli altri periodi dell'anno. Per i commercianti si dice che la gente c'è stata, però comunque spendeva poco. Purtroppo è un dato questo generale e Ischiaponte ha risposto in pieno a questo dato generale, anche nazionale. E' vero, noi abbiamo avuto numeri, persone, molti numeri. Ischia è stata invasa da turisti, però purtroppo si badava prima a mangiare e a mangiare bene, anche se per certi versi anche lì si è subiti questo abbassamento, tra virgolette, dello scontrino medio. Però è poi tutto il resto. Senti, ma allora è colpa, come qualcuno dice, del low cost? È colpa di una crisi di identità che noi viviamo nella nostra isola. Bisognerebbe un attimo cercare di capire Ischia cosa vorremmo che diventasse e come ci vogliamo arrivare a quell'obiettivo. Ischia cosa vorremmo che diventasse